...reggio di Calabria Centrale, delle ore 6.42, è in arrivo al binario 2. Attenzione, all'ombra nassi dalla via di Azzurro, che è il volo di Azzurro, che è il volo di Azzurro... ...reggio di Calabria Centrale, delle ore 6.42, è in arrivo al binario 2. ...reggio di Calabria Centrale, delle ore 6.42, è in arrivo al binario 2. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla, ferma...